Ciao ragazzi! Questo video immagino che sarà molto ombroso da questa parte, poiché non ho il mio fidato telo qui. Comunque ragazzi, è ricominciato a scuola. Un'altra cosa da dire invece è che è finita la mostra di Tiziano a Milano, quindi finalmente potrò mettere sul mio canale il video della mostra, quello che è stato proiettato all'interno della mostra. Molti di voi sicuramente l'avranno già visto su questo canale qua, questo qui. Gli faccio un po' di pubblicità dato che ci sono, se volete cliccate e vedete il canale. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa attività, tra cui Valeria che si è dimostrata molto disponibile e Matteo Bruno che mi ha aiutato con le riprese e tutto il resto. Mettiamo anche il canale di Matteo. Cliccate se volete vedere il canale di Matteo. Olè! E ora che a dire? Buona visione! Il canale di Matteo Il canale di Matteo Occhio Il canale di Matteo Il canale di Matteo Il canale di Matteo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.